Pochi giorni e la Tonno Caglipo tornerà nell'Olimpo del Volley per l'inizio ufficiale della stagione targata 2016-2017. Terminata la preparazione pre-campionato e con ottimi risultati, ben due trofei già portati a casa, i giallorossi sono pronti ad affrontare per la decima volta la massima serie, dal 2004 ad oggi. Un esordio importante per la squadra di Coach Cantor per la prima di campionato. In calendario la trasferta contro una delle corazzate della serie, il Trentino di Lorenzetti. Coscione e compagni hanno già iniziato la rifinitura curata nei minimi dettagli per poter affrontare nel migliore dei modi la partita in programma il 2 ottobre al Palatrento. Nella seconda e nella terza giornata doppio appuntamento interno per la Caglipo, il 9 ottobre al Palapace sarà ospite il Monza. Il 16 invece arriverà un'altra veterana della Superlega, il Molfetta, al quinto anno in A1. I giallorossi sono pronti a questa nuova avventura, nuova solo per la denominazione Superlega, consapevoli di avere le carte in regola e giocarsela alla pari delle altre squadre. Con il ritorno delle vecchie guarde, Coach Cantor avrà poco o nulla da temere. Maria Chiara sigillò per l'AC News 24.